Dunque di un poeta appartenente, perché adesso andiamo in avanti, ricordiamoci il pendolo che abbiamo costruito, in pratica parlando di simbolismo e di decadentismo abbiamo prima cominciato a dare un'occhiata al poeta veggente di Rimbaud, quindi la vera e propria generazione simbolista, e poi abbiamo visto invece il padre, i simbolisti consideravano il loro padre alliello poetico Baudelaire, abbiamo visto alcune sue cose, che ovviamente in effetti anticipavano certi contenuti, certe forme anche della poesia simbolista. Adesso torniamo ai simbolisti con uno di quelli che in Francia sono considerati tra i più importanti, ovviamente rappresentanti di questa corrente, di questa scuola artistico-letteraria, cioè Paul Verlaine. Paul Verlaine è il tipico rappresentante di quella generazione, condivide con i simbolisti barra decadenti la condotta di vita, lui praticamente vita completamente sregolata, questa è una fotografia credo quasi rubata di Verlaine al bar, con davanti una bella bottiglia di assenzio, che era praticamente la bevanda che stordiva, era un tasso alcolico molto alto, che era molto praticata da quella generazione, una droga praticamente, benché lui faccia un tentativo di rientrare nella normalità, sposa una donna, un matrimonio assolutamente infelice e nel frattempo continua a bere, ad avere comportamenti completamente trasgressivi, spesso ha a che fare anche con la giustizia per i suoi comportamenti. E poi, non so se vi ricordate, quando parlavamo di Rimbaud, il loro rapporto sentimentale, lui praticamente ha circa 30 anni e Rimbaud, eccolo qua, una fotografia dei due, questo è Verlaine, e Rimbaud quando viene conosciuto da Verlaine e quando i due si mettono insieme ha 17 anni, è appena pubblicato le sue illuminazioni, cioè pubblicato, sta scrivendo poesie e Verlaine rimane folgorato da questo ragazzo e i due passano insieme un bel po', insomma qualche anno. Poi vi ricordate la chiusura di questa relazione piuttosto burrascosa, addirittura umbriaco, Verlaine spara e colpisce a un braccio Rimbaud e i due poi ovviamente si separano. Sull'onda di questo episodio lui fugge in Belgio ma viene condannato per omosessualità, praticamente per 18 mesi sta in carcere, in quei tempi l'omosessualità era considerata un delitto, insomma un reato, e quando esce dal carcere insomma non cambia molto, in effetti lì nella sua maturità, tenete presente che lui è del 1844, muore nel 1896, quindi vedete anche questa è un'esistenza abbastanza precocemente interrotta, ha a che fare con numerose malattie, povertà quasi assoluta, vedete proprio l'emarginazione totale dell'artista simbolista decadente, e quindi muore a Parigi, città che lo ha ospitato molto spesso, insomma nel corso della sua esistenza, così povero e malato. Forse una delle sue poesie più importanti e anche delle più note è questa, la canzone d'autunno, che ci fa respirare forse un aspetto del simbolismo barra decadentismo che non abbiamo ancora mai incontrato dal punto di vista pratico, come esperienza di lettura, ma che avevamo in qualche modo così anticipato quando parliamo di questa corrente di pensiero, di artistica in generale, c'è il senso di decadenza, il senso di morte che sta per arrivare, il senso insomma di qualcosa che sta finendo, appunto decadentismo. Canzone d'autunno, leggiamola e poi cerchiamo di vedere se è vero che ci restituisce questo aspetto, anche un ennesimo aspetto di questa corrente che abbiamo chiamato simbolismo decadentismo. I singhiozzi lunghi dei violini d'autunno mi feriscono il cuore con l'anguore monotono, ansimante e smorto, quando l'ora rintocca, io mi ricordo dei giorni antichi e piango, e me ne vado nel vento ostile che mi trascina di qua e di là come la foglia morta. Qui c'è anche l'aspetto, la versione originale, se volete apprezzarne il suono, perché insomma il suono in questo ambiente in francese è molto importante, come è importante l'aspetto fonico delle poesie, comincia ad essere importante nella poesia simbolista. Vabbè, c'è questa metafora dei singhiozzi lunghi dei violini d'autunno che apre la poesia, come può essere interpretata? Ma in modi diversi, ma in effetti qui si parla per esempio di questa melodia struggente, ma l'inconica dei violini potrebbe alludere per esempio al lamento dei venti che vengono dal nord, oppure dal cadere monotono della pioggia che in quelle latitudini, insomma, siamo dalle parti di Parigi, annuncia l'autunno. Il tutto chiaramente restituisce poi questo senso di malinconia, di qualcosa che appunto che sta avvenendo meno, cioè la bella stagione che trascolora nell'autunno. Da questo ritratto, diciamo così, atmosferico, poi si entra presto, perché vedete mi ferisco nel cuore, si entra presto nella tristezza interiore del poeta, in effetti, ansimante smorto, vedete, sembra cosa che faccia fatica a respirare liberamente. Poi io mi ricordo dei giorni antichi, vedete, ansimante smorto, io mi ricordo dei giorni antichi e piango. Questa sensazione di tristezza che sta quasi diventando mortale, è esasperata anche dal ricordo dei giorni antichi, antichi nel senso che passati, dove probabilmente il poeta viveva una condizione più felice, più serena. Quindi ecco, il ricordo di quei giorni non fa altro che peggiorare la situazione dal punto di vista psicologico, una situazione in cui ormai è un autunno anche interiore praticamente. E l'ultima strofa però, vedete, chiude con questa specie di abbandonarsi di Verlaine, ha questa sensazione, non lotta, diciamo bene, quando dice me ne vado nel vento ostile che mi trascina di qua e di là come la foglia morta. La foglia morta galleggia nell'aria praticamente trasportata di qua e di là dal vento senza opporre resistenza. Appunto, vedete, qui si parla utilizzando un termine un po' difficile di reificazione del poeta. Il poeta diventa quasi una cosa, cioè una trasformazione in un oggetto inerte, in balia del vento ostile, cioè senza che lui faccia punti piedi per fermarsi. Quindi indifferenza, cioè vabbè, vedete il decadentismo, questo languore della fine a cui non ci si oppone, diciamo vabbè, sto andando via, sto morendo, sto venendo meno, diciamo così. Diciamo questo potrebbe anche essere, se volessimo alzare un po' il livello, ma non so se Verlaine sarebbe contento, la precarietà della condizione umana, cioè il fatto che non è soltanto Verlaine che si sente così, ma tutti noi siamo in qualche modo legati alle bizzarrie del vento che ci sbatacchia, diciamo così. E la musicalità ovviamente si perde molto nella traduzione, chiaramente il francese suona in maniera diversa dall'italiano, però la musicalità sta anche nel fatto che il lessico giustamente si riferisce, vedete, a strumenti, melodie, ritmi, si parla di canzone, violini, monotono, cioè un ritmo monotono, rintocca, vedete? E poi ci sono in francese molti suoni L, N, ON, vedete, sembra quasi un battere su certe note particolari. Nell'originale anche le rime sono molto regolari e molto strette, quindi c'è una ripetizione, vedete? Les sanglots long, des violons, de l'automne, bless mon coeur, du langer, monotone. Sentite, l'automne, monotone. Cioè, ovviamente nella traduzione in italiano, purtroppo non c'è niente di peggio che tradurre una poesia, ma nella traduzione in italiano ovviamente questi suoni vanno persi, chiaramente. Quindi l'idea di Verlaine era di ripetere, con le rime, con il ripetere di certi suoni fonici, il riferimento alle melodie, agli strumenti, alle canzoni, alla musica, un effetto appunto fonico che riuscisse a esaltare il singhiozzo dei violini che poi è il pianto del poeta, quindi i singhiozzi lunghi e io piango, vedete? Quindi c'è questa voglia di far funzionare le parole della poesia prese non casualmente da un lessico, non soltanto per il loro significato, ma anche per il loro significante, cioè per il loro suono, per il loro aspetto fonico. E questa è una novità assoluta, come avevamo accennato così, via teorica, è una novità assoluta del simbolismo europeo di quell'epoca. Verrà spesso riacchiappato da altri autori, questa tecnica, diciamo così, del far suonare musicalmente la poesia è una grande scoperta della poesia simbolista e decadente, la vedremo prossimamente molto spesso praticata. Ci vediamo la prossima volta, grazie dell'attenzione e buona digestione.